Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta con crema di zucchine ricotta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono pasta, zucchine, ricotta, olio extravergine d'oliva, scalogno, sale, pepe, prezzemolo e noce moscata. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno ed azioniamo il bimbi per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio. ed insaporire per 4 minuti 120 gradi. Velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. aggiungere le zucchine, il pepe, il sale e la noce moscata e cuocere per 15 minuti. 100 gradi. Velocità 1. Nel frattempo cuocere la pasta in abbondante acqua salata. aggiungere la ricotta, riunire sul fondo tutte le zucchine e frullare per 10 secondi. a velocità 5. La salsa è pronta. Scolare la pasta, condirla e spolverizzare con il prezzemolo tritato. pasta con crema di zucchine ricotta. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!